musica ragazzi siamo ritornati su minecraft pocket edition non per pocket ma per edition cos'è quel coso lì? crema di magma buona un vera rucca del sottomondo hai una vera rucca? abbiamo le bottiglie di vetro vuote che sono utilissime serve un cazzo abbiamo l'acqua infinita come potete vedere no quello io serve l'acqua però abbiamo l'acqua infinita in casa come potete vedere quelle lì sono cose d'acqua ancora la distillazione questa qui è un'aggiunta fighissima c'era già il minecraft? non lo so si sicuramente c'era già è che io non le so tutte le cose di minecraft cos'è che ho fatto splash splash? c'è qualcuno che si aggira nei palaggi c'è una zucca hai vista la zucca? no aspetta eh ho capito ah no ah no qui c'è un altro sottomondo si non lo so non lo so questo è una zucca non lo so non lo so ma non lo so abbiamo un altro ma ma Ma... vai, vai! No, aspetta. Il controller che ha fatto è proprio spastico. Sì. Vediamo cosa succede. Pozione prosaica, nessun effetto. Allora che cazzo serve? Ah no, aspetta. Ah no, perché secondo me ci dobbiamo aggiungere la verduca di tutto il mondo. Un pochino di verduca. Non sta andando. Ma serve l'acqua. Ragazzi, questo qua probabilmente è un semplice demo e sicuramente non acquisterò perché c'è un gratis sul pc. Ma chi è che sta rompendo le cose? Ma proprio magari c'è un video da qualche parte. Ma al destro. C'è qualcuno che sta veramente rompendo i coglioni. Riprendiamo tutto e andiamo a farci una scorrazzata. Prendi anche quel che lascia al mio fornace. E' verlo che è il sottomondo. Vabbè. Premix, già qui ci sei. Ok. Chi è? Oh cavolo, che si è? No, no, aspetta, aspetta, aspetta. C'era la zucca. Vai a prendere la zucca. No, aspetta, facciamo... Aspetta, dove fanno la cosa? Che cavolo. Vedi che c'è qualcuno? C'è Erobrine. Vai a prendere la zucca. No, qua ci sono i libri. Il libro è in calcazzo. Già fatto. Io so come fare. Mettici... Mettici il piccone di... No. No. Il piccone. Il piccone. Metticelo. Ok, metterci il piccone. Adesso premi... Eh, non hai abbastanza esperienza ancora per fare un cazzo. E allora niente, i primiti piccoli usciamo. Adesso... Andiamo a vedere un pochino... Uh, qua... Ah, ho capito. Non ci credo. Lì c'è la miniera. Poi c'è l'altro posto e ci sono tutte le varie culture. Mh. Va che bellissima sta cosa. Voglio un mondo così anche su PC. Per chi dice che fa schifo, invece è una meraviglia. È bellissimo. Chissà se ci sono anche i creeper. Ah no, aspetta, ho un'idea. Se andiamo a vedere cos'è che c'è. No, aspetta. Allora, facciamo... Adesso recuperiamo... Aspetta, torniamo indietro. Recuperiamo... Li uccidiamo... Cosa? Le... Le... Le api di animali. Eh, ma cosa c'è? Vabbè poi... C'era anche una cassa. La cassa, la cassa. Rompi. Sì, ma... Certo che ti l'ha fatto i spasti. Ti l'ha fatto i spasti, certo. La cassa che notare da qualsiasi lato la guardia è sempre... Mamma mia. Ottimo. Adesso io direi di andare a farci una scorrazzata però... Per accedere in cerca di creeper. Incerchiamo? Eh, aspetta. Ci servirebbe... Allora, aspetta. Dobbiamo buttare via qualcosa. No, ma no. Tienti... Lasciala via dentro la cassa. Tanto non è un problema. Allora, prendiamoci proprio il pesce. Ah, questo qua per fargli riprodurre. Sì. Lo volevamo fare anche lui. No, allora. No, no, no. Vai in... No, non ce ne frega per ora. Andiamo a cercare i bomb. Che sono curioso a vedere come sono fatto. Ah, no. Aspetta. Perché... Allora, no. Ma Minecraft in cima di... C'è un creeper. Hai visto? Andiamo a salutarlo. Sta scendendo di là. Fatti una scaletta. Ah, devi rompere. Pazienza. Rompi il tetto. In un angolo. No, c'erano zombie. Zombie. Io adoro i zombie. Io però volevo il creeper. Eh, secondo me. Ma che sì. Voglio il creeper. Sì! Il creeper! Accendilo! Attivo! Sì! Io adoro il creeper. Creeper! Creeper! È bellissimo il creeper! Aspetta. Andiamo a farci un giro mio. Sì! Così la troviamo tutta un pesato di creeper! Allora, aspetta. Andiamo qua. Torniamo in casa. Sì! E ci facciamo il... Ci facciamo almeno... Ci facciamo qualche altro piccone. Il cavo è finito il legno. Mondo reale in Minecraft. Eh, ho fatto una calcolata con la cassa. Ma fai nulla. C'è qualcuno ha fatto un mondo reale in Minecraft? Cos'è che c'è? Eh, ho sbagliato a metterla a cassa. Ma fai nulla. E' uguale. Hai chiuso la porta? Sì. Ehm... Non ne sarei sicuro. Oh, ma... Sai come si usa l'arco le frecce? No. Ma è una lunga quella adesso. L'arco le frecce io le usavo per trollare gli scheletri. Se tu gli spai non capiscono dov'è che viene. Eh... E' una figata. Non si vero gli altri mani d'attacco di di povere scheletri. Ah no! E' per dirti che stai correndo! Ah... Poi adesso vi devo dire che questo mondo qua è fatto abbastanza bene. Ma tutta la miniera. Capirai che miniera. Torce di pietra luce. Pietra rossa. Ma in realtà non ci serve. E' figoso sto mondo però. No. Sì, tanto non ci... Non ci saranno i mob adesso. E' un contenitore. Ah no! Che figata! Bellissimo il capello la miniera. Sai come si usa? L'hai tolto. Rimettilo. Tanto non ci serve niente. Com'è che funziona? Innanzitutto degli X. Ok. Spostati in avanti. In avanti. In avanti. Sposta... Premi qualcosa! Oh che bello! Si può anche... Si può anche sta... Devi star seduto. Innanzitutto devi sederti. Poi devi andare avanti. Poi devi andare avanti. Non va. L'ho bloccato. Allora aspetta. Eh il problema è che... Ok. Hai capito come ti muovi? Com'è che stai facendo a muoverti? E' un test avanti. Si va un po' lento eh. Sai che forse devi premerlo velocemente? Ah. Chi si deve fuori da? Ah! Ho capito, ho capito. Devi... Devi passare sopra quel caso rosso. Quando ci passi va veloce. Ah! Chi l'ha fatto è lo stronzo. Ah! Dai vaffanculo al binario. Ma che cazzo c'ha? Laggia? Ah! Si ma chi l'ha fatto è un bastardo però. Apposta per trollarti. Che miniera di me. Non dovevi romperlo. Hai spento i binari adesso ci fermano. C'è uno scheletro. Ah! Ah! C'è uno scheletro. Andiamo a salutare i nostri amici scheletro. Sai che se ti rompi la zucca puoi metterla in testa? Lo so. No però aspetta. Uh! Un enderman! Saluta! No! Dai! Vai avanti! Tanto non ti fa il supercolpo. Sei ancora in modalità tutorial. Non puoi morire dai. Scusa. Ti ha già notato. Attento. No. Non devi. Dovevi batterlo. Ah! Ecco! Devi batterlo con la zucca in testa. Devi metterti la zucca in testa. Così non ti attacca. Che cavolo. È la regola di Minecraft. No. Vado a combattere. Ti sta ancora seguendo? Morto. Ti ho detto che devi metterti la zucca. Vabbè vai a recuperare la tua roba. Vai a recuperare la roba? Dove c'è l'enderman? Sali in fretta che la trovi ancora. Tanto ci sono gli scheletri che vanno a fuoco. Non ti dà fastidio va a fuoco. E non va. Non cuore. Eh si vede che è stanco. Come serve di che non cuore? Cuore. Guarda. Stranco vabbè. Speriamo di arrivare in tempo di prendere la nostra roba. Tanto l'enderman non ci sarà più. Firo. Se c'è prendi e scappi. Ok. Qua c'è tutta la tua roba. Miracolo che non c'è preso niente l'enderman. Di solito la roba se la porta via. È un ladro? Ci sono un po' di rumori random in questa versione. Sì. Adesso devi organizzare tutto. Questo è confermato. Sì. È un po' scomodo di trovare feste. Aspetta. Andiamo nel tuo castello. Quante porte. Sì. Guarda. Bah. Quindi poi dovremmo prenderci la argilla e riempirci tutto di mattone. Ma cosa serve? Non so. Saliamo a vedere di cosa è fatta la scritta Minecraft. Devi distruggere un po' però ce la facciamo. Dai guarda. Cazzo ma chi ha fatto sto mondo qua è un po' malato. Teste. Per me è meglio di no. Come che padrone sa rabbia. Sei tu il padrone. Librerie. Acqua. Dai andiamo a vedere di cosa è fatta la scritta. Però abbiamo bisogno di blocchi. Tanti blocchi. Cos'è? 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 Ce li abbiamo i blocchi di tipo. Pietrisco. No. Beh almeno è solida. Però andiamo a romperla. Dai andiamo a romperla. Ci facciamo. Con un po' di terra. Un po' di pietrisco. Una specie di mini scala. Devi rompere. Non sei abbastanza alto. Magari col piccolo. Se caldi da qui è garantita la tua fine. Che sfiga. Vediamo. Te l'allunghi. Si ce la fai. Così. Così. È scomodo però ce la fai. Adesso cadi. Ti trolla. Dai che ce la facciamo a cadere. Com'è? Com'è? Dai che ce la facciamo a cadere. Dobbiamo ancora avvicinarci un poco. Ancora un pochino. Ancora un pochino. Pref. Geniale. Siamo un po' alti però vabbè. Ma chi ha fatto sta scritta qua? È un genio. Cancelliamola. Cancelliamo la scritta. Cancelliamola. Intanto è la lana. Poi per scendere vabbè ci buttiamo. E ci ammasso anche le torci. Oh chi l'ha fatto è un genio. Quella lì cos'è? Ah pietra colorale. Le... Sabbia colorale. No. È un genio. Chi l'ha fatta. Il sottomondo. Il nether. No. Non piazzate. No. Non piazzate. Non succede niente. Eh sì. In realtà sei nel sottomondo. Prova a scavare sotto il te. All'uscire. Sei in un altro mondo? No. Sei sempre lo stesso. Che cazzo caglio. Magari sei di qua il sottomondo. No. Non vaffanculo. Vabbè il portale è buggato. Vediamo. Di qua non c'è niente. Ma stiamo tornando... Boh comunque era bella sta cosa qua. Che hanno nascosto un portale. Nel... Nel... Ok. Ora come scendiamo? Buttati. Che caglio. Come vuoi scendere? Se si spawnano i creeper sulla... Se si spawnano i creeper sulla scritta. Ah... Distruggo il mio scritto. Anzi se no ti dai un... C'è la faccia del creeper sulla... Vabbè è simbolo di Minecraft. Ora... Ci ricordiamo più o meno dove siamo caduti? Eravamo fuori alla fortezza quindi... Dove c'è della roba che ondeggia per terra. Tipo qua. Mi è mai capitato di morire pure di tante volte in vita mia e manca. Eh ma questa qui... La versione PlayStation... Muori di più. È la... È proprio il vantaggio... Tutti la scaricano solo per quelli. Eh ma che cazzo. È buggato. È già buggato. Il principio. Facciamo il jukebox e ci mettiamo il disco. Giusto per sentire la musichetta. Mi la facciamo così poi ci vediamo la prossima puntata. Giusto. Così finiamo con la musichetta. Sentiamo il disco. Scusa... Non fa il cazzo. Vabbè è un disco... Ah no. Sono i versi dei ragni. Ma vaffanculo qua. No no non sono i versi dei ragni. È proprio che c'è un ragno. Il disco è muto. Oppure il cannato jukebox. Vabbè ci vediamo alla prossima volta. Ah no aspetta. Sto togliando un attimo. Intanto manca ancora due tre minuti. Il sole comunque non si sente niente. Continuiamo la nostra esplosione. Qua? Qua? Qua ci sembra. Siamo già stati in tutte le parti. No qua no. Sempre librerie. Tutto uguale questo mondo. I disegni sui clip. I quadri. No già. Se li metti i quadri. Sulla parete. Si spogliono i disegni random. Se li metti i quadri. Fusibile. 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 Che buona idea. Fusibile. Per il sole. Ti sei pure ripreso il blocco. Quello che abbiamo fatto il nostro esperimento e abbiamo trovato il portale per il sottomondo. Che non funziona. Ommestico di culo. Cosa è che sono? Lampada di pietra luce. Si lavata. Sconcigliato. Bisogna notare che si crepa anche l'acqua. E l'acqua? E' sparita. Pozioni e bombe e pozione. Vabbè. Finiamo qua. Anche perché sta iniziando a girarmi la testa. Causa Minecraft. Ci sono lì. Dunque ragazzi. Chiudiamo qua. Ci vediamo alla prossima puntata. Naturalmente continueremo la ristorazione del mondo. Quindi. Bene a tutti da Wolf. E da Jacopo Mi. La prossima puntata. Ragazzi. Abbiamo ottenuto il tempo per dirvi che è appena finito il video. È finito il tempo di prova. Quindi ci è andato a culo. Proprio. Quindi ragazzi. Chiudiamo qua questa miniserie. Quindi comunque continueremo con l'obiettivo sopravvivenza. Naturalmente. Giusto. Quindi ci vediamo a un prossimo video. Arrivederci a tutti.